no no caccia fa leopardo mi dai sei di sei cd le ferrucci rettene toni colombo fiorellino non è bianchetto stai bustine di schietto no appena roll non c'è un po' Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info C'è un leopardo? C'è un leopardo? È il brasiliano C'è un pastello? C'è un pastello? C'è un pastello? Cosa sta? Cosa sta? Cosa sta? Cosa sta? C'è un settembre C'è un settembre C'è un settembre Dove? 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 Dove sono i ragazzi? Il spiderman Cosa stavate? C'è un spiderman? Cosa stavate? Il spiderman? Il spiderman? Dove sono le spiderman? Dove sono le spiderman? Il spiderman? c'è la spada? il libro da colorato? questo qua? o il libro da colorato? tutti qua? solo uno? solo uno cosa è? guarda 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 ciao che stai? chi? cosa è? ciao